ciao a tutti oh ciao ciao forza sir forza sir sempre si può girare? si può girare? si può girare? ma questa maglietta ignoranza è riferito al tifo? si questa è per tutti noi tifosi che non solo noi l'ignoranza ma maggiormente i loro giocatori in quanti siete oggi? quanti pullman qui? due pullman saremo quanti siamo? 150? no 120 via 130 la prova tamburo è andata bene? io non sto al tamburo però ci provo adesso tocca a loro a vedere se la prova tamburo è ok io testo il megafono come stanno andando le prove? bene bene adesso vediamo un attimo come sono se le tele sono tirate bene poi tutta a mano allora noi continuiamo a vedere dei nuovi gadget abbiamo anche i guantini appositi ecco ce li puoi spiegare? questi sono fatti apposta per i tamburini? si perché a fine gara sennò le mani fanno un po' male il tatuaggio la dice lunga insomma eh si quando è il cuore che parla non non ci stanno regole non ci stanno limiti per me è una passione quindi è giusto che ci sia anche il tatuaggio che incornici il tutto un tatuaggio è per tutta la vita come l'amore per la Sir per te esatto l'amore per il mio amore per la Sir sarà per tutta la vita come il cuore Grazie a tutti.